Cari fratelli e sorelle, questa sera voglio presentarvi il messaggio che San Giovanni Paolo II affidò come Papa ai giovani per la sesta giornata mondiale della gioventù, celebrata nei giorni 10-15 agosto 1991 in Polonia. Sono passati 32 anni e tanti giovani di allora, oggi, come donne e uomini adulti, nutrono e hanno un bagaglio incredibile di fede, di speranza e di carità. Il tema, come abbiamo già avuto modo di ascoltare dal video, è «Avete ricevuto uno spirito da figli», espressione tratta dal testo di San Paolo ai Romani, capitolo 8, versetto 15. Per comprendere il concetto di figlio, dobbiamo partire dall'esperienza umana, dove in una famiglia vivono e crescono delle persone chiamate figli. Gesù stesso ha voluto, come figlio di Dio, incarnarsi nella natura umana, per vivere e crescere in una santa famiglia, come genitori Maria e Giuseppe. Noi che abbiamo aperto gli occhi al mondo siamo nati in una famiglia e siamo diventati figli di Dio attraverso il battesimo, dove, dice appunto San Giovanni Paolo II, il vero protagonista è lo Spirito Santo. E' Lui, infatti, che ci fa diventare tali. Cosa vuol dire, allora, essere figli di Dio? Vuol dire lasciarsi guidare da Lui. Così come i bambini, i ragazzi e i giovani si lasciano guidare dai loro genitori. Quando i bambini, i ragazzi e i giovani non si lasciano guidare dai genitori, subentrano altre figure, altre persone, altre realtà, che conducono gli stessi in situazioni pericolose. Per la propria vita, come la ludopatia, la malavita, la droga, l'alcol. Sul momento sembrano dare giovamento e speranza, ma è una speranza effimera, senza eredità. San Paolo, sembra nel messaggio, ci parla di una eredità in Galati 4, 6. E voi che siete figli, ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida Abba, Padre. Quindi, continua San Paolo, non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. San Giovanni Paolo II dice, infatti, che la santità è l'essenziale eredità dei figli di Dio. La santità. La santità consiste nel compiere la volontà di Dio Padre, in ogni circostanza della vita. Lo stesso Papa aveva detto a Santiago de Compostela, giovani, non abbiate paura di essere santi. Volate ad alta quota. Siate tra coloro che mirano a mete degne dei figli di Dio. Glorificate Dio con la vostra vita. Chi può insegnarci come glorificare Dio con la vita è Maria, la madre di Dio, discepola del figlio Gesù. La nostra mamma, che San Pio da Pietreccina chiamava Mamma Bella, Mamma Cara. Maria è la migliore maestra, come abbiamo ascoltato anche dal video. Così diceva San Giovanni Paolo II. Nel suo cuore materno si può custodire l'eredità dei figli di Dio, promessa dal Padre. A lei affidiamo le nostre preoccupazioni, a lei affidiamo i nostri giovani, a lei affidiamo l'intera umanità, perché possa trovare sempre la vera pace, il vero amore in Cristo Gesù.